Un, due, un, due, un, due È la marcia dei diritti dei bambini Della carta dei diritti dei bambini Ho aperto un libriccino ed ho letto che un bambino da mangiare non ce l'ha E c'è chi non ha da bere con il rischio di morire senza acqua come fa Ma come fanno? Io non ci credo, non si può fare, io non ci credo Ho sfogliato bene bene quelle foto di bambini invecchiate dal lavoro E di quelli senza un tetto e di quelli senza affatto e senza un poco di decoro Ma come fanno? Io non ci credo, non si può fare, io non ci credo, non si può I diritti sono di tutti, l'ha spiegato la maestra C'è una cangia, prima cosa, per riprendere i bambini Tutti i capi delle nazioni hanno fatto le riunioni Hanno detto e hanno scritto sui diritti dei bambini Allora perché? Allora perché? Quando gioco al girotondo penso che su questo mondo c'è qualcosa che non va Che ci sono dei bambini sulle strade abbandonati senza mamma né papa Ma come fanno? Io non ci credo, non ci può fare, io non ci credo Ad un'altra parte ancora c'è chi non può andare a scuola e chi i tuoi cattoli non ha E c'è pure chi si ammala e gli manca quella cura che il suo medico non ha Ma come fanno? Io non ci credo, non ci può fare, io non ci credo, non si può I diritti sono di tutti, l'ha spiegato la maestra E' un'altra parte E' un'altra parte E' un'altra parte Essere bambini vuol dire essere grande e buone. I bambini di tutto il mondo hanno gli stessi diritti. Grazie a tutti.